Buonasera a tutti, oggi è lunedì 15 agosto, ancora per poco tempo perché sono le 23.23 e facciamo un rapido aggiornamento. Siamo arrivati a vincolare il terzo T-3 a ribasso. Il terzo T-3, che quando abbiamo visto tagliare questo minimo, ha portato a un'eventuale scalpata, avevo dato da fare agli esperti del gruppo premium. Adesso siamo arrivati a 27 bar senza un minimo assoluto che scenda sotto questo livello, abbiamo bisogno di quello che sta succedendo proprio in tempo reale, ovvero di un massimo. Un massimo per andare a fare che cosa? Per andare a chiudere, oltre alle 24 barre, siamo a 25, il nostro T-3 inverso. Se andremo appunto a chiuderlo e stiamo per avere la condizione necessaria e sufficiente, poi si potrà riprendere a scendere. E fate attenzione al fatto che avremo il controllo, eventualmente, sul quarto T-3 per vedere se si proseguirà a scendere. Successivamente, ovviamente, il controllo passerà su questo swing a 23.600. In questo momento, peraltro, stiamo rischiando di andare in death cross, che porterebbe a altra discesa. Quindi, vediamo dove faremo questo rimbalzo, che per adesso potrebbe persino bastare per chiudere appunto il T-3 inverso. Vediamo se non arriveranno HFT ed altre cose. E poi, faremo tanti altri ragionamenti. Dopo che sarà partito il quarto T-3, perché, se andiamo a rivedere rapidamente la scansione ciclica, qui anche potremo avere già una chiusura di secondo T-3. Però, poi, non tornerebbe a livello di altro. Come vedete, qui andrebbe a 40, non andremmo oltre. E qui c'è... qui manca un minimo. Dopo un massimo, se faremo un minimo, rimbalzeremo, facendo partire il quarto T-3, da allora avremo bisogno di capire che cosa succede, come detto. Oltretutto, stiamo provando a rimanere appiccicati al sostegno della media mobile a 200 periodi. Se iniziamo a mollarla troppo di frequente, l'abbiamo fatto una, due, tre volte, attenzione, perché si rischia di fare quello che ci dicevamo. Chiusura dell'inverso e partenza del quarto T-3, anche se il terzo avrebbe bisogno di un minimo inferiore a questo, ovvero, appunto, ai 23.892, ma qui c'è sempre il solito discorso del fixing, del fatto che comunque può avere chiuso serenamente, appunto, su questa discesa alle 21.30, che lo porterebbe una chiusura a 29 barre e quindi di nuovo in violazione dopo 5 barre sopra questo minimo, in violazione del minimo stesso, attenzione, rischio di short. Perché? Facciamo un passo indietro. Anzi, prima facciamo una cosa. Come già detto in passato, le correlazioni non servono a niente. Perché? Perché andare a cercare nel passato quello che può succedere nel futuro non ci riporta alle stesse fasi cicliche in cui ci ritroviamo adesso. Tanti dicevano, eh ma sì, è da un po' di tempo che si è legato l'andamento di Bitcoin con quello di Nasdaq o di S&P 500. Bene, qui da un po' che scendiamo, giusto? Questo è l'S&P 500, solo salita verticale. Questo è il Nasdaq, salita solo verticale. Direi che è da mo' che ci siamo persi la correlazione, è da un bel po' di tempo ormai, d'accordo? Ma ritorniamo appunto al grafico, a candele giornaliere. Come detto, qui siamo già, non contando l'ultima candela, a 6 più una candela di terzo T inverso, di un mensile inverso che è arrivato anche in questo caso, non contando questa candela se rimarrà rossa a fine giornata, non contando il fatto che siamo a 26, quindi abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di questo mensile inverso, questo mensile inverso, questo mensile inverso, tutto il semestrale inverso, e quindi bisogna iniziare, scusate, tutto il trimestrale inverso a tre tempi, e quindi bisogna iniziare a fare attenzione, tanta attenzione alle posizioni long space, se non riusciremo a superare questo livello dato dall'acumo, il livello superiore dell'acumo. non ce l'abbiamo fatta qua, non ce l'abbiamo fatta qua, non ce l'abbiamo fatta qua, sono già tre tentativi che non riescono ad andare a buon fine, è vero, non abbiamo una divergenza ribassista, perché abbiamo massimi crescenti e massimi crescenti, quindi nessuna divergenza ribassista, però come sapete, le divergenze sono l'ultima delle cose che ci interessano, e ribadisco, se andremo sotto i 23,6, siamo soltanto al quarto giorno, si vincola tutto questo terzo di settimanale a scendere, e siamo soltanto a 20 giorni di mensile, quindi si rischia di continuare a scendere, occhio ai punti che vi ho dato da visionare per capire se andremo a salire o meno, la forza per adesso, in questo momento non c'è, o arriva un HFT, o rischiamo di favorire il Death Cross. Vi ringrazio per il vostro tempo, e vi auguro una splendida serata, se ci fossero aggiornamenti, farò in mattinata o nel primo pomeriggio un altro aggiornamento su Bitcoin. Arrivederci!